Il concerto di primavera per i ragazzi della scuola di indirizzo musicale di Domodossola. Stiamo con il maestro Stefano Gori che dirigerà anche l'orchestra, il coro. Vuoi parlarci di questo evento conclusivo? Sì, è ormai il diciannovesimo anno che alla fine del nostro anno scolastico presentiamo il concerto di primavera alla fabbrica di Villa Dossola. Quest'anno è il quinto anno consecutivo che il concerto è sponsorizzato, passatemi il termine, dal Club Kivanis di Domodossola. Il programma delle musiche di quest'anno sono arrangiamenti di Roberto Olzer e c'è un brano arrangiato anche dal nostro collega di violino che si chiama Antonello Repetto. Sono tre brani di Harry Mancini, Moon River, La Patera Rosa e Baby Elephant Walk. Abbiamo anche Mission di Morricone, un omaggio a questo grande musicista che ha avuto il premio Oscar proprio recentemente per le musiche scritte per l'ultimo film di Tornatore. Poi suoneremo una suite dal Pier Gint di Edward Grigg. Suoneremo un brano tratto dal film Il Libro della Giungla di Walt Disney e un brano tratto dal film, in questo momento non mi viene comunque, è un brano che si titola La storia infinita. Sono tutti arrangiamenti di Olzer e di Antonello Repetto. I ragazzi sul palco quest'anno saranno 220-230 tra coro e orchestra. Il coro è preparato dalle nostre colleghe di pianoforte Paola Maiocchi e Silvia Fantoli e il sottoscritto dirigerà il tutto. Grazie al Club Kivanis il ricavo della serata verrà offerto alla scuola per l'acquisto di strumenti, il mantenimento dell'attività musicale di questa scuola che è sempre più impegnativo.